Uno stalker di 78 anni, trissa con coltello tra minorenni, nuovo assalto a un supermercato. Ben trovati al TG, gli ultimi atti del questore di Frosinone Domenico Condello promosso a un nuovo sono stati due ammonimenti ad altrettanti uomini per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il primo a carico di un 78enne accusato di comportamenti ossessivi, offese e minacce, prima a danno della moglie, collocata in una struttura protetta per proteggerla dal marito, e poi a danno della moglie di un suo amico defunto. A quest'ultima il 78enne avrebbe imposto la sua presenza in casa, vietandole di uscire da sola e costringendola in uno stato di stress e paura al pari della figlia di questa donna, costretta ad abbandonare la casa paterna. Il secondo ammonimento ha un ventenne per violenze fisiche e psicologiche nei confronti della fidanzata, convivente e coetanea. Si è insediato il nuovo questore di Frosinone Pietro Morelli, negli ultimi anni vicequestore di Como e Genova e consigliere ministeriale. Nel 2011 a Napoli arrestò un pericoloso boss della Camorra. Rissa tra una dozzina di minorenni italiani e stranieri in piazza 4 novembre a Ponte Corvo. Un sedicenne che era intervenuto per difendere un amico è stato ferito al volto e alla schiena con un coltellino dalla lama di piccole dimensioni. Altri tre ragazzi sono rimasti feriti, gli aggressori sarebbero stati identificati. Dopo il furto al supermercato Carrefour ad Anagni, Osteria della Fontana, medesima azione criminale al supermercato Jacob in via Casilina ad Arce, dove i soliti ignoti hanno sfondato la saracinesca con un furgone rubato e portato via la cassaforte. Potrebbe trattarsi della stessa banda, ma gli inquirenti non escludono l'azione di un gruppo di imitatori. Umberto Maura, 74 anni, di Ceccano, ha accusato un malore improvviso mentre era alla guida dell'auto in via Matteotti ed è morto nel giro di pochi secondi. Inutili soccorsi, profondo cordoglio in città. Motociclista in codice rosso dopo uno scontro con un'automobile nella zona della galleria Capo di Chino sulla superstrada Cassino-Sora in territorio del comune di Atina. Disavventura lieto fine per padre e figlio dell'età di 64 e 30 anni, due sono rimasti intossicati durante un'escursione nei boschi in territorio del comune di Vigo nel Lazio, dove hanno trovato e mangiato con eccessiva leggerezza funghi rivelatisi velenosi. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che li hanno trasportati all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone per le cure del caso. A risentirci alla prossima edizione.